L'amore che arriva sempre puntuale nonostante tutto, cioè possono arrivare le tempeste, le guerre e essere un po' in passione, quello che si dice è matrimoni, però io ci sarò sempre e tu ci sarai sempre per me e questa è una cosa bellissima. Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie! Grazie per la visione!